L'estate del beach soccer parte dalla Darsena di Viareggio. Al Matteo Valenti Beach Stadium è andato in scena la prima giornata di gare della Coppa Italia Enel, il primo evento stagionale del beach soccer targato FIGC Lega Nazionale Dilettanti, giunto alla nona edizione. Giocate spettacolari, sole e tanto divertimento, sono questi gli ingredienti che caratterizzano il circus dello sport più emozionante dell'estate. Le 12 squadre in gara non si sono risparmiate ed hanno confermato le aspettative della vigilia, in termini di intensità e spettacolarità. I risultati danno ragione alle teste di serie di questa competizione, con tutte le favorite che vincono all'esordio, segnando una valanga di gol. Ben 52 in 5 gare. Siete pronti? Sei pronto? Speriamo di sì. Finalmente si inizia questo campionato, adesso vediamo come va questa Coppa Italia, anche perché è la prima tappa che giochiamo assieme, vediamo un po' i risultati. Poi anche per il campionato. Sei stato in giro un bel po' di mesi, Brasile, Russia, adesso Viareggio, quindi un capitano giramondo. È un mese che non torno a casa. No, una bella esperienza sicuramente il Brasile. Poi l'etapa di Kiev è stato un buon allenamento per la nazionale, per l'etapa italiana. Adesso iniziamo anche qua con l'Oseo. Sempre le stesse emozioni, sempre le stesse. Pronti, pronti, pronti. La squadra è sempre quella dell'anno scorso, abbiamo tre nuovi innesti, quindi comunque abbiamo già una buona organizzazione e adesso lasciamo che parli il campo, dai. Un buon percorso fatto lo scorso anno, siete qui per cercare di... Abbiamo voglia, puntiamo a vincere, quello sicuramente. Abbiamo la mano in bocca per la finale persa nel terzo tempo contro Terracina l'anno scorso e siamo qua per rifarci. Fin dalla Coppa Italia, poi puoi finire bene in campionato anche. Sono neanche le tre, c'è già gente, c'è pubblico, c'è solo, c'è mare, musica, spettacolo, le emozioni sono sempre quelle del episodio. Assolutamente, Viareggio poi offre davvero tutto questo perché è molto seguito e ci sembra una gran cornice attorno a questo sport qua. Bocca al lupo. Grazie, grazie. Viareggio. Contenta qui? Sì, molto. Via, basta, su, via. Tutti, tutti. Chi è la mamma? Marinai? Marinai. Sì. Sono due. Eh, sono doppi. Grazie. Tutti viareggini, tutti a rifare per il Viareggio. Sono appena le tre ma siete già in tanti, quindi c'è passione e c'è voglia. Ma più che altro non lavora nessuno, le sconze che erano lì. Siamo un popolo disoccupati. Un popolo disoccupati. Siamo 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 un popolo disoccupati. Grazie a tutti